Il mercato europeo è un mercato con tutti i banchi europei, la maggior parte, e italiani, selezionati. La selezione la fa la Confommercio FIVA di Roma, col suo circuito, che poi si appoggia alle FIVA territoriali, come in questo caso me e Mauro Amazzone, la Presidente, che gli prepariamo tutta la piattaforma e di solito il giovedì facciamo l'accoglienza e di venerdì cominciano le vendite, dalle ore 10 fino alla domenica a mezzanotte. Il mercato europeo è curiosità, cultura, artigianato, che diciamo se uno arriva può acquistare prodotti da tutta Europa senza... Il mercato europeo si svolgerà a Novara il 28, 29 e 30 settembre, l'ultimo weekend di settembre, e si svolgerà nella zona pedonale del centro di Novara, occuperemo la via 4 Novembre per il reparto food somministrazione, la via Rosselli e la piazza Puccini e la piazza Duomo. Un centinaio di bancarelle, il 90% arriva da tutta Europa. Si possono trovare molteplicità di prodotti, ma prodotti tipici dei vari stati. Per esempio arriverà l'irlandese della Guinness, dove troverete, si può trovare dall'abbigliamento alla birra rossa, nera. Ci sarà il banco francese con tutte le profumazioni dei prodotti francesi, il banco dei formaggi francesi, ci sarà il banco inglese con le marmellate inglesi, ci sarà il banco scandinavo con i vari piaili, prodotti da montagna, ecco, per le temperature di quella zona. Poi ci sono proprio una molteplicità di prodotti che si possono trovare, soprattutto poi la somministrazione. Nella somministrazione si potrà mangiare irlandese, si potrà mangiare tedesco, si mangerà il polacco, si potrà mangiare la paella spagnola, si mangerà lo stinco tedesco, ecco, cotto con la legna della foresta nera. Ci sarà l'argentino, anche se comunque non è dall'Europa, ma arrivano anche da tutto il mondo, perché quest'anno una novità sono gli israeliani con i loro prodotti tipici dello Stato. L'occasione è per girare per l'Europa e per il mondo, se vogliamo, questi tre giorni, perché consiglio anche nella pausa del mezzogiorno, oltre che la sera, che magari le persone tornate dal lavoro potranno comunque aliettarsi con questi cibi che normalmente non mangi, ecco, e soprattutto i costi, perché i prezzi sono molto abbordabili, per cui anche una famiglia può recarsi tranquillamente a mangiare, può mangiare di tutto e di più, proprio a prezzi bassi, delle novità, delle particolarità che solitamente non mangi tutti i giorni.